Al via oggi a Paroldo la prima scuola di pastorizia d'Italia, un percorso formativo unico nel suo genere, promosso da Coldiretti Piemonte e dal Comune di Paroldo. Il Comune di Paroldo ha creduto fortemente in questa iniziativa e l'ha sostenuta sin dall'inizio. Perché questo impegno per la valorizzazione delle attività di pastorizia? Innanzitutto l'idea nasce da, così pensando al passato, che Paroldo, come l'Altalanga, era terra vocata alla pastorizia e quindi era un elemento importante nell'economia rurale e delle famiglie. Io che ho vissuto parte della mia vita dedicandomi a questo settore, vedere la decrescita dell'allevamento come un problema anche ambientale. Quindi di qui l'idea di proporre a Coldiretti e di sostenere questa iniziativa che potrebbe poi essere comunque avere anche una logica di espansione anche in altre zone d'Italia che hanno le stesse nostre caratteristiche. Coldiretti oggi ha presentato il primo rapporto sulla pastorizia piemontese, un quadro da cui emerge la necessità di investire in un percorso formativo come la scuola di pastorizia. Sì, abbiamo esaminato i dati che da un lato ci confortano perché la popolazione in Piemonte abbiamo constatato che negli ultimi anni è mantenuta quasi costante, non è diminuita, anzi forse è aumentata leggermente. Però questo è un fenomeno che non ci deve trarre in inganno perché parallelamente abbiamo potuto verificare che il numero degli allevamenti è diminuito, quindi l'interpretazione che diamo è che siano aumentate le dimensioni medie degli allevamenti e probabilmente anche di quegli allevamenti più ustanziali, allevamenti da latte perché viceversa noi siamo partiti dalla constatazione che sempre più abbandonate sono le aree marginali, le aree pascolive e sempre più a rischio di estinzione sono le razze locali a discapito appunto per lo sviluppo di razze invece selezionate e soprattutto selezionate da latte. Quindi benvenga allo sviluppo di questa nuova forma di imprenditoria perché è importante salvaguardare quella che è la pastorizia tradizionale che si porta dietro una serie di valori che sono la conservazione del paesaggio, la tutela di questi territori, dei pascoli e quindi un patrimonio di biodiversità che è dato dai pascoli stessi ma anche da queste numerose razze locali che sono sempre più rare a rischio di estinzione e che quindi soltanto attraverso una pastorizia di questo tipo si può salvaguardare nel tempo. La montagna è tema cruciale all'interno della scuola di Pastorizza e anche al centro del suo assessorato vicepresidente. Quali sfide attendono le nostre montagne? Ma intanto belle sfide perché abbiamo visto quest'estate c'è tanta gente che è arrivata in montagna per cui possiamo solo che pensare bene. Credo che bisogna investire, investire sui giovani come qui nella scuola è molto importante per non abbandonare le montagne perché l'abbandono non vuol dire solo perdere l'attività di pastorizia piuttosto che del miele o altre strutture ma perdiamo proprio la qualità della montagna nella nostra vita perché se arriviamo ad avere solo più delle foreste, delle piante, dei rovi e non c'è più gestione ahimè anche la pianura subisce poi un trauma. Quindi dobbiamo lavorare tutti insieme, lavorare con chi vive la montagna non solo per il turismo ma anche i residenti e questo non è l'esempio più classico. La scuola di pastorizia è un progetto ambizioso, molto ambizioso l'abbiamo visto, con obiettivi molto importanti. La creazione di nuove opportunità professionali soprattutto per i giovani, il rilancio dell'economia agricola in montagna, la sostenibilità. Coldiretti ha da subito creduto fortemente in questo progetto. Abbiamo voluto questo progetto insieme con il sindaco di Paroldo perché non è pensabile immaginare il futuro delle nostre montagne senza pastorizia e per avere pastorizia in futuro servono nuovi pastori, nuove generazioni di pastori non solo dalle tradizioni familiari che già ci sono in Piemonte, per fortuna sono ancora tante nonostante le difficoltà delle nostre imprese che fanno allevamento e pastorizia nelle nostre montagne. Però abbiamo bisogno di anche nuove generazioni, nuove persone che provengano da altri mondi e che scelgano questa vita perché è un mestiere importante ed è un mestiere che non è nostalgico ma è un mestiere che guarda a un futuro sostenibile per le nostre montagne, che garantisca la manutenzione del territorio e che dia la possibilità di anche produrre formaggi e carni di qualità importante. La scuola di pastorizia inizia oggi qui a Paroldo, abbiamo un numero di studenti che è superiore rispetto alla capienza dell'aula, quindi alcuni sono ancora in attesa di poter entrare, questo è un buon segnale per iniziare. Scuola di pastorizia per Coldiretti ha anche occasione per ricordare alla regione di essere coerente rispetto alle partite aperte che riguardano la montagna e quindi indennità compensativa, le risorse sul bando 2020 sono ancora solo pari al 50%, quindi occorre coprire il 50% rimanente al più presto e poi ovviamente non ci può essere montagna senza il ritrovare un equilibrio fra l'uomo e la fauna selvatica, fra l'allevatore e l'animale selvatico, anche il lupo che oggi sta facendo attacchi sempre più forti nelle nostre montagne. Occorre un ragionamento di buonsenso togliendo di mezzo tutte le ideologie e facendo un lavoro che non tuteli solo il lupo ma che tuteli anche i nostri allevatori, perché senza allevatori e pastori la montagna non può avere un futuro. Quella di oggi è un'iniziativa importante resa possibile grazie al contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che ancora una volta dimostra la propria sensibilità verso i temi dell'agroalimentare e dell'economia agricola. Esattamente, è proprio con estremo piacere poter essere qua oggi, perché come mia formazione, essendo un veterinario fondamentalmente, ho visto un percorso che negli ultimi 30 anni si sta concretizzando. E questa qua fa parte non soltanto sull'agroalimentare, ma dalle nostre tradizioni. Noi vogliamo coniugare tradizioni e futuro, dare una nuova possibilità a dei giovani che si possono pensare a ritornare a questi posti, a questi bellissimi posti per le nostre allevamenti, perché sono le nostre tradizioni che devono essere viste in un'altra ottica, un'ottica nuova e vincente. Il programma formativo vede coinvolti anche docenti di livello, come quelli dell'Università degli Studi di Torino ed esperti dell'Istituto Lattiero Caseario di Moretta. Un programma davvero complesso, corposo e in sostanza quali competenze andranno ad acquisire gli iscritti? I partecipanti a questo primo modulo andranno ad acquisire delle competenze collegate innanzitutto all'aspetto zootecnico e quindi riconducibili alla gestione dell'animale e conseguentemente tutti quelli che sono gli elementi utili per poter lavorare con gli animali nel rispetto delle regole del benessere e nel rispetto comunque di quelli che sono i cicli naturali. Parallelamente il percorso, grazie alla collaborazione con l'Istituto Lattiero Caseario di Moretta, fornirà i primi elementi utili per poter avviare quel processo fondamentale che è legato alla trasformazione dei prodotti e quindi per l'ottenimento del formaggio e conseguentemente con la possibilità di poter pianificare un progetto di impresa che guardi al mercato. Quello partito oggi è soltanto il primo dei moduli formativi previsti per la scuola di Pastorizia. È ancora possibile naturalmente preiscriversi ai moduli che si terranno nei mesi a venire? Sì, questo è un aspetto molto importante. Infatti oggi è partito il primo modulo ma il percorso formativo si articola in altri due moduli, il secondo finalizzato al concetto legato alla gestione del pascolo e quindi conseguentemente dalla gestione dell'animale alla gestione del territorio, altro elemento fondamentale per chi vuole svolgere questo tipo di attività. Nel secondo modulo poi si tornerà ad affrontare il concetto della trasformazione delle produzioni aziendali, in questo caso sul versante carne, altro prodotto di rilevante importanza per quanto riguarda l'allevamento ovicaprino. Poi il terzo modulo invece sarà più concentrato sul concetto della gestione aziendale e quindi sarà finalizzato a fornire agli allievi tutti quelli che sono gli elementi utili per progettare adeguatamente e portare avanti adeguatamente il loro progetto di impresa e parallelamente a fornire gli elementi perché possono affrontare in termini anche di marketing il mercato. Tra il secondo e il terzo modulo poi è previsto uno stage a livello aziendale con il coinvolgimento di imprese che operano in questa zona perché gli allievi che hanno partecipato sia al primo che al secondo modulo possono mettere in pratica quelle che sono le conoscenze teoriche acquisite. La scuola di Pastorizia ha suscitato un grande interesse non soltanto nel Cuneese ma anche nel resto del Piemonte e nel resto d'Italia. Tu da dove provieni? Io vengo da Viterbo, quindi dal Lazio. Mi sono trasferito in zona più o meno un mese e mezzo fa circa. Ho iniziato con la produzione del formaggio e della ricotta in un agriturismo e poi ho deciso di frequentare la scuola su indicazione del proprietario e quindi l'idea è quella poi di avere in futuro un'attività per conto mio. Dietro a una grande distanza come quella esistente tra Viterbo e Paroldo c'è sicuramente una grande motivazione. Beh certo, diciamo che subito ho trovato molto interesse nell'animale, quindi nella mongitura e tutto il processo del latte e poi anche nella trasformazione, nella stagionatura. vedo che mi sono interessato subito molto a questo mondo. Sogni un'impresa tutta tua? Sì, sì assolutamente. Vorrei prima di tutto scegliere un bel posto e poi fare qualcosa di mio.